un saluto a tutti da snowkills ben ritrovati in un nuovo video su pubg in questo video che andremo a commentare vediamo un po snow che precipita con il suo paracadute e si lutta ovviamente un fuciletto d'epoca ma alla fine dell'ospedale usciamo fuori con m4 m16 relativamente ben messi prendiamo la nostra baggie e ce ne andiamo giù per terre anche perché il cerchio stringe su base militare ma qualcosa purtroppo va storto quelli fottutissimi canali cemento e quindi si va a piedi si va a piedi e il cerchio stringe stringe sempre di più veniamo superati siamo a perdere energia continuiamo a correre e corre e corre disarmati fuori dal cerchio ci sparano guardate che slalom che slalomista goku spostati schivo proiettili come se non ci fosse un domani me la cavo l'oppo rinuncia scappa pure lui magari sarà da gambe riusciamo ad arrivare nel cerchio signori signori ci curiamo e poi purtroppo siamo costretti a farci mille mila chilometri a nuoto una rottura di zebedei che non ha fine fino ad arrivare all'isola del maledettissimo base militare ecco qua che si sente una macchina passare da qualche parte lì sotto c'è un buggy non me ne sono accorto lì per lì anche perché anche se me ne fossi accorto non l'avrei preso lo stesso inutile fare rumore qui infatti noi già sappiamo che qui c'è qualcuno che sta cercando di entrare goffamente qui mentre noi i silenziosi furtivi e letali passiamo dalla rete rotta entriamo dentro vediamo cosa ci sarà mai qui dentro un fucile ma c'è una macchina accesa quel tizio poi bug della madre la buggy che scrascia ovunque da ferma lo schissimo quindi io so che lui è lì lo so sta arrivando eccolo e lo polverizziamo istantaneamente andiamo un po a vedere che cosa ci fornisce e per lo più tra le utilissime cure mirini granate zaini a grossa capienza ha un fichissimo fucile da cecchino con le 100 magnum che ovviamente ci andiamo a impolpare prepariamo tutto quanto perché con questo fucile faremo grosse kill da qui alla fine della partita preparati perché sarà una partita tutta cecchino praticamente infatti vedete quanto tempo ci sto mettendo ad allestire tutte le varie armi ecco qua che lo carichiamo sto bestione vai quante kill ci faremo due tre quattro minimo minimo un caricatore le usiamo tutte ecco qua il primo anche della distanza però andiamo sicuri con il mitra prendiamo un po i sassi non lo riesco a far fuori e lì che si nasconde come un ratto e continua a sparare ai sassi però poi alla fine l'ho preso per fortuna sono riuscito a stenderlo e rischiamo scendiamo a tutta e dopo essere precipitati malamente senza riportare però lesioni andiamo a luttare anche il cadavere di questo sfortunato vediamo un po cosa ci fornisce qualche munizione e proseguiamo la ricerca signori proseguiamo la ricerca qui ci avviciniamo al punto finale alla ricerca del dell'ultimo che dove si sarà nascosto dove sarà nascosto parte la musichetta che indica la fine del video quindi è qui da qualche parte dove non si sa andiamolo a cercare sfrutto abilmente la morfologia del territorio per nascondere il fianco diamo un po per attenzione signore e signori attenzione silenzio un verme che striscia dov'è dov'è eccolo qui eccolo qui e si vince lascia un bel like e e e